Salve! Questa è l'Italia, con i suoi 8.000 km di costa e una meravigliosa trama di sorgenti, fiumi e laghi. È la nostra risorsa vitale. Per questo, il 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua, organizziamo la conferenza nazionale delle acque, per sapere quanta ne abbiamo, quanta ne consumiamo, quanta ne avremo e come tutelarla dall'inquinamento e dal rischio clima. Acque d'Italia, il nostro bene comune. Seguici su italiasicura.governo.it e sui social. Se sicura l'Italia, l'Italia è più sicura. Grazie.